Jay, ancora, ancora sul podio, ogni gara! Sì, ogni gara, 4 settimane in un po' sul podio è molto buono. Cosa succede durante l'overtake del Tembring? Due chilometri, ho scoperto, ho cercato di prendere l'overtake, e si è scoperto dalla traccia e si è in grado, quindi non avevo alcun scopo, si è cercato di prendere l'overtake. E hai trovato il posto, perché questo è il tuo corno, credo che devono dare il tuo nome al corno, perché ogni volta in quel corno puoi scoprire tutti. Sì, sicuramente, ho scoperto molte persone in quel corno, per sicuramente. Congratulazioni, bravo!